Grazie Un grande applauso per voi, donsi, signori Fatemi lecce Signori Questo è il momento di prendere le telefono Questa notte non è solamente me ringraziare per questi dieci anni Anche Ma per annunciare quello che tutti aspettano da sempre Dopo nove anni Nove minuti anni di gestazione Dopo tutto quello che è successo Dopo questa vita folle Il nuovo album Ragazzi matti Lì è pronto Chi vedrà il numero 25 Non si volò Insieme all'album Nascerà anche la fondazione Ragazzi Magri E si occuperà di evitare i giovani in difficoltà Tutti i miei giorni Dalle comunità All'alternet e agli ospedali E più che la del bisogno Ragazzi non è un ragazzo È una missione Abbiamo messo i giganti Marco l'alternet e agli ospedali Marco l'alternet e agli ospedali Nicola Il banana Albasso Ed è lei Io a quest'uomo devo la vita Un grande applauso per voi Grazie E adesso Come non andare via così Grazie a tutti Grazie 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 Sì, è la mia, è la mia È la mia, è la mia, è la mia